I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 6.45 in A14 direzione sud tra i caselli di Loreto e Civitanova Marche per l'incendio di un auto articolato. Per cause in corso di accertamento l'automezzo che trasportava profilati metallici è uscito di strada e dopo aver addivelto diversi metri di guardrail è andato a fuoco. L'autista è stato messo in salvo e trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso di Civitanova Marche per accertamenti. Nell'incidente sono stati danneggiati alcuni cavi di fibra ottica ad elevata potenzialità trasmissiva. Lorena e Noto Tim, il mezzo pesante, ha tranciato tre cavi in fibra ottica che servono come area vasta del sud nelle Marche. L'azienda ha avviato un'azione per l'accertamento delle responsabilità e la conseguenza è richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'accaduto. L'incidente, particolarmente grave, ha avuto ripercussioni in particolare sui collegamenti dati di rete fissa e su quelli di telefonia mobile della zona. I tecnici di Tim, si legge nella nota, sono sul posto pronti ad intervenire non appena le autorità competenti consediranno l'accesso al punto dell'incidente, al momento ancora inibito per ragioni di sicurezza. È previsto un intervento ad oltranza che proseguirà anche di notte per riparare i cavi danneggiati e ripristinare nel più breve tempo possibile i servizi telefonici nelle località coinvolte.